Il treno, Eurostar Italia, alta velocità, 95, 66, di Trenitalia, delle ore 8 e 30, proveniente da Roma Termini, per Torino Porta Nuova, è in arrivo al binario 8, ferma, Bologna Centrale, Milano Rogorelo, Milano Porta Garibaldi. Grazie a tutti. Il treno regionale 11-6-6-6, di Trenitalia, delle ore 8 e 22, proveniente da Arezzo, è in arrivo al binario 16. Il treno regionale 23-370, di Trenitalia, delle ore 8 e 22, proveniente da Israeroporto, è in in arrivo al binario 2. Il treno, Eurostar Italia, alta velocità, 94, 0, 2, di Trenitalia, delle ore 8 e 25, per Venezia Santa Lucia, è in partenza dal binario 13, ferma, Bologna Centrale, Padova, Venezia Mestre. Uh. Uh. Grazie a tutti. 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 a tutti.